Alimentazione corretta e un'attività fisica regolare contribuiscono a migliorare le condizioni di salute e riducono l'incidenza di patologie cardiovascolari. Un dato scientificamente dimostrato che a Napoli, città con un'elevata percentuale di bimbi obesi, ha ispirato due progetti nati dalla sinergia pubblico-privati e destinati alle scuole elementari. A realizzarli la società sportiva dilettantistica Europa con la fondazione Milan e il patrocinio del comune di Napoli e dell'Ussi Campania. Spesso purtroppo le scuole non sono in condizioni di praticare l'educazione fisica con i tempi, con i ritmi, con gli spazi necessari e consideriamo che a Napoli questo è particolarmente un problema se consideriamo che i bambini abbiamo il più alto tasso di obesità infantile proprio per cattivi stili di vita e per modelli di comportamento alimentare sbagliati. Il primo progetto Mangia Giusto e Muoviti con Gusto nasce da una ricerca condotta su un campione di 50 ragazzi tra i 10 e i 15 anni di peso differente, dei quali sono state studiate le abitudini alimentari. In tre mesi di trattamento nei soggetti in sovrappeso, dieta ed esercizio fisico hanno portato ad un significativo dimagrimento e a positivi risultati sul piano atletico. Il progetto si cala nei bisogni reali dei ragazzini. Nella scuola c'è bisogno di educare i ragazzini anche delle attività motorie. Le società sportive dovrebbero garantire questo fuori dagli orari della scuola ma noi abbiamo voluto sfidare nel senso buono la realtà andando nella scuola a fare una proposta educativa. Come Comune di Napoli, come assessorato alla scuola abbiamo molto investito in questi anni su questa cosa ma naturalmente l'investimento privato ci aiuta a dare alle scuole, specie nei territori dove non sempre i bambini possono consentirsi di avere palestre a pagamento o di dedicarsi ad attività sportive di vario tipo. Un personale formato da formatori specialisti ma soprattutto di dare un certo numero di ore in più curricolari ai bambini di sport. Il secondo progetto, Muoversi bene per crescere meglio, promuove l'alfabetizzazione motoria nella scuola primaria attraverso l'affiancamento degli insegnanti da parte di istruttori delle scuole Calcio Milan e la distribuzione di opuscoli informativi. Appoggiandoci alla scuola Calcio Milan, la Milan Academy forma praticamente gli insegnanti che andranno poi nella scuola primaria a confrontarsi con gli insegnanti e le maestre per sviluppare questo progetto e quindi collaboreranno con gli insegnanti sia in palestra, nella lezione con i bambini e addirittura ci sarà anche un percorso degli incontri di formazione con gli insegnanti. Faremo il massimo perché, come dire, esperienze del genere saranno sempre più presenti nella nostra città e avremo più esperienze soprattutto nelle periferie.